Tre italiani sul gradino più alto. Alla prima gara della nuova stagione del Moto Mondiale, andata in scena domenica sera, tra le luci artificiali ad illuminare la pista del Qatar, è stato l'inno di Mameli ad essere il co-protagonista. I protagonisti invece sono tre, uno per ogni categoria, che si sono presi la scena tagliando il traguardo per primi davanti a tutti. Andrea Migno in Moto3, Celestino Vietti in Moto2 ed Enea Bastianini per la MotoGP. Tre piloti che ora, con questo primo successo inaspettato per molti, fanno accrescere le aspettative sul loro proseguimento di stagione. Sebastianini è nato a Rimini, ma cresciuto sotto l'ala protettiva di Fausto Gresini, scomparso per Covid un anno fa e al quale ha dedicato il trionfo di domenica, Migno e Vietti sono nati uno a Cattolica e l'altro a Torino, ma entrambi cresciuti nell'Accademy di Valentino Rossi. Andrea, che per diverse stagioni ha corso sotto la guida del dottore in sella su una Sky VR46, si trova per il secondo campionato consecutivo a guidare per lo Snipers Racing Team, ottenendo sia buoni risultati l'anno scorso con diversi podi, che ottimi come in questa prima gara del nuovo anno. Per Celestino Vietti è partito la grande il suo secondo campionato in Moto2, che da questa stagione lo vede coinvolto nel progetto del nuovo Munei VR46 Racing Team, a fianco del suo compagno di squadra Nicolò Antonelli. I due quarti posti come miglior risultato ottenuto nello scorso anno sono stati spazzati via dalla prima gara in Qatar del 2022, ma l'idea di migliorarsi e crescere fin da subito era un pensiero che già aveva in mente settimane fa. Sicuramente il primo obiettivo è quello di riuscire a fare il primo podio, perché l'anno scorso ci è sfuggito per poco, quindi sarà la prima cosa a cui puntiamo e poi speriamo di continuare a poter crescere e continuare a essere veloci tutto l'anno. Vale ci sarà sempre, ci seguirà sempre, lui quando c'è bisogno di un consiglio, di un supporto, c'è sempre. Vi potrà essere molto utile il suo supporto? Assolutamente, assolutamente, perché tanto comunque chi meglio di lui ci può dare qualche consiglio per gestione della gara oppure anche soltanto l'interpretare una curva, quindi lui su queste cose penso sia proprio il numero uno e siamo fortunati ad averlo.